Ciao a tutti, sono Federico, esperto di prodotto BMW Dinamica. Oggi abbiamo qui con noi la nuova X1, il nuovo SUV compatto di casa BMW, che viene stravolto nel design degli interni e degli esterni. Il design del frontale si evolve all'insegna della modernità. Rimane il classico doppio rene a sviluppo orizzontale. Nuovi invece i fari LED anteriori piatti. Nella fiancata possiamo apprezzare lo stile più slanciato ed aggressivo che mai, mentre al retro sono i nuovi fari ad L a essere da protagonisti. Il design interno è stato rinnovato completamente con le introduzioni dei BMW Curve Display. Il doppio display curvo con cui possiamo adaccedere a tutte le funzioni della vettura. Gli interni risultano più minimali e lo stile più pulito. Al tunnel centrale troviamo un pozzetto per la ricarica wireless ed il bracciolo centrale sospeso che fa quasi da pannello di controllo, ospitando il settore di cambio di tipo shift by wire e le modalità di guida. Nuove X1 cresce anche di dimensioni per garantire maggior comfort e spazio a bordo. Cresce anche il baule con 540 litri di capacità e con il completo abbattimento dei sedili arriva fino a 1600 litri di carico. Nuova X1 offre una vasta gamma di motorizzazioni sia benzina che diesel. In seguito arriveranno le versioni plug-in ibride fino ad arrivare a quella 100% elettrica, la iX1. Viene a scoprirla nel nostro showroom BMW dinamica a Brescia in via breve 4. Ti aspettiamo!